Facciamo la plastica, la buttiamo, diventa terra. Dalla terra è un ciclo che si chiude, è un cerchio. Ed è questa la grandissima novità. Mentre la plastica si ferma, questo invece è un circolo chiuso ed è un cerchio della vita. Questo è complicato. Il cerchio del lavoro. Allora, a questo punto noi ci lasciamo proprio una promessa da parte vostra. Vedete, quella lì è la mascotte del Mater B, ma non sappiamo... Mi chiedo, se vedo voi è maschio o femmina? Maschio, femmina, voluti... Vabbè, noi non sappiamo neanche il suo nome. A questo punto approfittiamo dal seno del visto, tagliare questo foglio a tutte le piatti che possono radunarsi con le maestre che si interessano e tagliare un nome alla mascotte del Mater B. E' un nome molto importante perché ormai il Mater B è il materiale, è la più facile del futuro che avrà inserito il mondo. Potreste entrare anche voi a trovare il nome del visto. Pensate, citate di sopra, se non lo potrete avere, ci citate più di basse e poi ci citate tra gli gmail quelli che siete proposti da questo fatto. Ora, ci sono una faccia di vedere anche queste ragazze che sono momenti stani, ci citerei, ci citerei a voi che avete più due grassi o una sola? A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Allora, capate di avere queste ragazze. Allora, passate un po' per la frase, ci sono sempre a posta, la prima frase che si sceglie la presa della macchia. ... ... ... ... ... Poi inizio, ho la vita da scuola perché il mondo è il mio figlio, ma non è solo un'occasione della nostra vita. Il mio figlio è la vita di un'occasione, ma non è solo un'occasione. Il cazzo, a man mano che si fa questo uomo, si porta un'occasione. Il cazzo. ah ok ok vai ecco la si tratta di una sessione classica della pensionaria un reso piano che mi piace a tutti cellulosa, cancia oppure a parte di un'altra che è una nuova per il classico 5,5,5,5 giù un applauso ma se non si chiedono per i modi un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa mi servirebbe un punto ruolo vai, piatta non c'è il problema ok? adesso puoi passare il filo si si si, usa il punto ruolo no no, eccoci, guarda aspetta, aspetta e la parte fila deve essere trovata e la parte fila deve essere trovata e la parte fila e la parte fila e la parte fila deve essere trovata e la parte fila deve essere trovata e il problema è assolutamente che si si non si tratta e il problema è tutto ma è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.